Salve a tutti i beatniks e agli appassionati di musica beat, oggi in questo video vi mostrerò delle scritte psichedeliche che ho creato ispirandomi all'arte psichedelica degli anni sessanta. Ho creato questi disegni psichedelici con queste scritte usando vari strumenti, tra i quali pennarelli indelebili, normali pennarelli colorati, una penna sfera rossa, come in questo caso. In questo disegno ho utilizzato una penna sfera rossa per creare il contorno di questa scritta. Guardate che bello. Questo invece è stato creato con degli acquarelli. Prima ho colorato lo sfondo di questo disegno con gli acquarelli. Dopo averlo fatto asciugare ho fatto queste scritte con vari pennarelli indelebili colorati. Qui invece è stato utilizzato un pennarello indelebile blu per fare questo disegno e per fare la scritta. All'interno della scritta ho utilizzato evidenziatori colorati. Quello che vi sto per mostrare adesso è un disegno psichedelico che mi ha molto colpito perché è uno dei miei preferiti. Questo è stato interamente colorato con un pennarello indelebile rosso. Guardate che bello. Il rosso è il mio colore preferito. Qui al lato c'è la mia firma, The Italian Beatnik. Così mi firmo quando creo dei disegni di questo tipo. In passato avevo già realizzato dei disegni psichedelici simili a questi che vi sto mostrando. Nell'altro disegno anche qui c'è la mia firma. Aspetta che ve la faccio vedere. The Italian Beatnik. Io questi disegni li trovo assolutamente originali. Qui invece è un po' difficile. Ma ve la faccio vedere lo stesso. Vedete? The Italian Beatnik. Che dire? Questi disegni io li trovo originali. Ecco come ho già detto mi sono ispirato all'arte psichedelica degli anni 60. Spero che questi disegni che ho creato vi siano piaciuti così come questo video. Un saluto a tutti i Beatniks e agli appassionati di musica beat.